bene, ripartiamo con la modellazione della casa un pochino più indietro rispetto all'ultimo video che abbiamo fatto non abbiamo ancora fatto i fori questo perché volevo quando andiamo in Object Mode volevo ricostruire questi fori in modo tale da fare un unico foro qua perché l'idea è di riuscire a mettere poi tutte le cornici, delle porte eccetera in modo tale da dargli una sensazione migliore inoltre in questo video se ce la facciamo cercheremo anche di migliorare l'aspetto aggiungere un po' di particolari sulla casa quindi cominciamo prima dal tetto e da queste cose quindi vediamo alcuni trucchi non so, magari si possiamo provare a usare un Blender un tema leggermente più scuro quindi per esempio questo vediamo, ok, così si vede meglio le cose che stiamo facendo sulla casa ok partiamo Object Mode selezioniamo la casa e andiamo in Edit Mode e vediamo di completare questa casa nel senso che vogliamo metterci ancora un piccolo zoccolo sotto e poi estendere il tetto in modo tale da renderlo un pochino più tridimensionale qui magari aggiungiamo ancora un paio di edge loop vedete che noi abbiamo messo diversi edge loop qui, no? ma mancano un paio di edge loop in questa direzione non che siano obbligatorissimi però abbiamo imparato che possono essere interessanti ah, togliamo le misure che abbiamo visto forse in uno degli ultimi video quindi le misure sono dove troviamo qua le mettiamo se eventualmente ci servono e in Edit Mode facciamo Ctrl R e aggiungiamo un edge loop qua e un edge loop un pochino più qua ok? poi lavoriamo con la base in fondo e togliamo tutto il pavimento nel senso che cerchiamo di costruire lo zoccolo in fondo oh, qui impariamo un piccolo trucco e cominciamo con le cose interessanti i trucchi, no? se selezioniamo questa faccia poi dovremmo selezionare anche vorremmo selezionare tutte le altre facce per togliere il piano cioè tutto questo pavimento quindi o continuiamo a fare Shift e selezioniamo tutto oppure qui abbiamo una cosa interessante che è la selezione Similar anzi addirittura Linked Flat Faces Shift Ctrl Alt F che seleziona praticamente tutte le facce che sono fondamentalmente sullo stesso piano di questa ok? quindi qui facciamo X cancelliamo le facce e quindi abbiamo tolto il pavimento ora a questo punto se noi facciamo Alt e tasto destro vediamo un po' ah no, dobbiamo selezionare l'edge e poi Alt tasto destro vedete che selezioniamo tutto il contorno al perimetro del pavimento quindi quello che vogliamo fare qui è fondamentalmente fare una estrusione e facciamo S scaliamo perché vogliamo farla un pochino più piccola no? nel senso che vogliamo fare una sorta di bordo ok? e poi facciamo un'altra estrusione perché vogliamo Z farla in basso per fargli questo scalino ok? questo qui è l'idea qui in realtà quello che volevamo fare forse era proprio quello di facciamo Ctrl Z ok? facciamo S ok? facciamolo molto sottile ok? e poi lo estrudiamo E Z facciamo questo scalino che funziona come base della nostra casa ok? prima cosa poi cosa possiamo fare? possiamo selezionare il tetto questa parte qua ed estruderla leggermente per ottenere dei particolari per ottenere una sorta di impagliatura di questo tetto e lo facciamo andando qua e selezioniamo questo punto possiamo fare anche la tecnica che avevo detto quindi anche che CTRL SHIFT ALT F che ci seleziona tutte le facce che sono più o meno parallele con queste poi facciamo SHIFT tasto destro e poi ancora SHIFT CTRL ALT F e selezioniamo quindi anche questo ulteriore pezzo di tetto facciamo un estrude e estrudiamo leggermente il tetto in questa direzione quindi facciamo praticamente otteniamo questo effetto facciamo un'estrusione simile anche qua quindi CTRL SHIFT ALT F e quindi estrudiamo anche questo e cerchiamo di renderlo più o meno simile al precedente CTRL Z CTRL Z allora facciamo estrude CTRL Z andiamo ok andiamo con calma CTRL SHIFT ALT F selezioniamo tutto e poi facciamo il nostro CTRL Z e cerchiamo di farlo anche a occhio in modo tale che sia simile a quell'altro ok così abbiamo costruito vedete una sorta di tetto qua giù e possiamo possiamo fare anche un'altra cosina interessante cioè possiamo prendere questo e poi SHIFT prendiamo quest'altra faccia e sempre andando di estrusione quindi facciamo estrude possiamo prendere questi due estremi e portarli un pochino più avanti ok stessa cosa possiamo farla dall'altra parte nel senso che prendiamo SHIFT anzi tasto destro e poi qua SHIFT e facciamo estrusione anche di questo pezzo quindi abbiamo ottenuto questa piccola estrusione poi possiamo estrudere anche un po' questo questo pezzo vogliamo mettere anche qui un particolare simile a quello che abbiamo appena visto si possono estrudere queste facce oppure una tecnica che si usa è quella di prendere i vertici quindi selezioniamo i vertici quindi prendiamo uno due tre quattro tutti questi vertici ok e li vogliamo estrudere fino ad arrivare praticamente ad allinearli con questa linea questo ci aiuta possiamo farlo aiutandoci con il magnete attiviamo il magnete e gli diciamo di allinearti al vertice quindi a questo punto cosa succede è che se noi facciamo e quindi estrudiamo vedete che qui fa un po' di cosa tranne perché si cerca di allinearsi con i punti che gli diciamo quindi se noi gli diciamo di arrivare qua lui è perfettamente allineato e arriverà effettivamente lì perché sto facendo questa cosa? perché voglio in sintesi adesso andiamo sulle facce un secondo cancelliamo questa faccia x faccia voglio fondamentalmente unire questo in maniera tale che diventi diciamo tutto perfettamente allineato quindi uniamo selezioniamo i punti e chiudiamo le facce quindi 1 2 shift shift F quindi facciamo 1 per fare le facce bisogna selezionare 4 punti 4 vertici e poi premere F anche qua facciamo 1 2 qui ci avviciniamo 3 4 F e poi facciamo ancora 1 2 3 4 F ecco avremmo potuto anche estrodere tutto questo ma si sarebbe stata una duplicazione di vertici quindi per il momento diciamo questa tecnica la teniamo buona voi potete poi fare anche la parte di dietro adesso non ve la faccio vedere per esercizio fate anche la parte retrostante ok dopo aver aggiunto alcuni particolari che abbiamo visto prima vediamo un po' anche un uso che possiamo fare del dei nuovi vertici che abbiamo aggiunto aggiungendo gli edge loop in questo caso ricordatevi eventualmente di togliere questo magnete e di inserire il connected in modo tale da poter manipolare i vertici e poter eventualmente muovere leggermente la struttura per simulare insomma una struttura del tetto o comunque delle altre parti della casa per darle l'impressione di maggior realismo cioè in pratica se nel legno si deteriora col tempo cambia e quindi possiamo procedere a cambiare insomma aggiungere insomma delle piccole modifiche soprattutto al tetto ma eventualmente anche le altre cose ok ora una volta finito la modellazione nel tetto qui potete divertire quando volete torniamo invece al discorso dei fori quindi qui abbiamo il modificatore booleano nel senso che abbiamo visto quindi andiamo in object mode selezioniamo tutte le porte e finestre che abbiamo fatto entriamo in object mode in edit mode con con il tab e a questo punto quello che volevo fare era di rivisitare un po' la sistemazione di questi buchi nel senso che volevo fare qui un buco unico grosso perché poi invece di fare le finestre e le porte separate volevo ricostruirle tutte un po' come succederebbe nella realtà nel senso che in realtà qui non è che si lasciano dei pezzi di assi ma si butta giù tutto e poi si ricostruisce cioè si taglia tutto cercando di evitare quindi il lavoro che si farebbe quindi noi andiamo avanti adesso con l'L L ricordate che seleziona tutte le zone connesse localmente quindi noi cosa facciamo adesso facciamo L anzi andiamo qua facciamo L edit mode quindi ah si no ah ok quindi seleziamo quello facciamo con L selezioniamo tutte le parti connesse shift L continuiamo a selezionare il va beh selezioniamo questa finestra la cancelliamo X quindi facciamo tutti i vertici di questa finestra facciamo la stessa cosa per questa finestra vertici e poi anche qua X vertices ok e cerchiamo di ricostruire partendo dalla porta originaria questa qua quindi come facciamo allora la vediamo innanzitutto di 3 quindi 3 la vediamo di lato io ho 3 del tasse in numerico magari voi dovete fare una cosa leggermente diversa comunque la vediamo di lato la vediamo magari in in prospettiva quindi con Z vediamo tutte vedete che così la vediamo esattamente a raggi X e quindi selezioniamo fondamentalmente questa porta questa porta qua la selezioniamo la facciamo un pochino più larga in sintesi quindi la qui abbiamo CTRL Z qui togliamo il PRO CONNECTED ok così possiamo controllare la facciamo un pochino più larga ok la stessa cosa la possiamo fare sulla destra forse vi conviene selezionare direttamente le facce ok ecco e poi vogliamo costruire a fianco di tagliare al fianco di questa porta lo spazio per le finestre e poi anche sopra dello spazio per le finestre magari selezioniamo questa la facciamo in modo tale che scenda un pochino sotto per permettere alla gente di entrare la stessa cosa la facciamo qua quindi ecco la porta e magari anche qui facciamo allarghiamo un po' perché dobbiamo metterci il telaio facciamo un CTRL R su questa quindi A CTRL R ok l'alziamo un po' e in questo modo possiamo selezionare questa faccia estruderla quindi estruderla lungo la Y vedete e la stessa cosa possiamo fare di qua estrudere lungo la la Y direi ok facciamo Z per vedere no abbiamo sbagliato vedete che non abbiamo selezionato è perché abbiamo selezionato il segmento quindi CTRL Z CTRL Z andiamo a selezionare la faccia Z e ripetiamo l'operazione ok adesso abbiamo ecco adesso è un pochino migliore quindi procediamo poi a selezionare tutta la parte di sopra quindi o selezioniamo con lo SHIFT oppure usiamo CTRL SHIFT ALT F e poi estrudiamo per ottenere lo spazio per fare le finestre di sopra ok se poi avessimo sbagliato e non ci piacesse possiamo sempre cambiare vedete possiamo intervenire selezionando e cambiando le proporzioni quello che vogliamo ok quindi questo l'abbiamo fatto su questo l'abbiamo fatto su quello ah qui una cosa che potremmo fare è di cambiare anche la ah qui possiamo tagliare anche questo nel senso che selezioniamo punto L cancelliamo questa finestra e facciamo lo stesso mestiere che abbiamo fatto di là quindi ingrandiamo un pochino la la porta leggermente e poi facciamo ctrl r ok e poi a questo punto selezioniamo faccia questa e magari facciamo e estrudiamo praticamente questa da metterci una finestrina a lato di qua bene ah una cosa che possiamo fare è mettere qua anziché due finestre e possiamo metterne tre quindi facciamo selezioniamo facciamo L e qui a questo punto possiamo fare shift D Y spostiamo e la mettiamo qua e così qui mettiamo una terna di finestre vedete che lavorando in questo modo tutte le cose risultano ben allineate e anche se fate qualche piccolo errore tipo se la finestra se le porte non sono perfette e sono un po' disallineate non sono simmetriche eccetera questo poteva capitare anche loro perché facevano tutto a mano ah una cosa che abbiamo dimenticato è di ok facciamo la porta che arrivi sotto ok poi controlliamo un attimo niente allora questo oggetto vedete che si chiama cube 001 ci conviene andare su dove abbiamo il nome dunque il nome lo vediamo in un po' di posti ma dunque andiamo in object mode qui in object mode dovremmo trovarlo qui sulla destra magari lo vedete voi ecco cube 001 ora invece di chiamarlo cube 001 lo chiamiamo taglio perché vogliamo usare questo intero oggetto ricordate che abbiamo fatto un intero oggetto con tutte queste finestre e le porte magari facciamo una cosa ancora e alziamo leggermente questo ok perfetto e vogliamo usare questo oggetto per tagliare la casa originaria quindi come facciamo a fare il taglio l'abbiamo già visto nel video scorso ma lo rivediamo qua nel senso che selezioniamo il nostro non cube magari lo chiamiamo casa medievale ok allora la casa medievale che abbiamo questa gli aggiungiamo un modificatore in cui gli diciamo boolean boolean è questo bellissimo sistema che permette di usare un altro oggetto che in questo caso è il taglio e di fare la differenza quindi facciamo la casa meno la differenza questo cosa vuol dire fare questo vuol dire che adesso se noi applicassimo tanto si può applicare il modificatore soltanto quando siamo in object mode quindi se applichiamo questo questo modificatore booleano tagliamo nella casa principale tutto il secondo oggetto ovviamente è già un pochino complesso ma voi potete fare lo vedremo tra poco anche dei tagli più elementari magari facciamo un piccolo esempio fra poco comunque selezioniamo il nostro taglio quindi lo possiamo selezionare anche da qua il taglio col tasto sinistro si seleziona e poi possiamo fare x per cancellare direttamente l'oggetto che abbiamo usato per tagliare quello che rimane vedete è semplicemente la casa tagliata giusto per per chiarire questo procedimento proviamo a fare un altro un altro taglio fittizio che poi cancelleremo anzi facciamo così questo qui lo salviamo save as facciamo casa medievale ok e poi proviamo a prendere un oggetto anche stranissimo per esempio c'è giusto per farvi vedere il concetto quindi costruiamo per esempio una monkey vedete monkey è la scimmia di blender solo per vedere cosa succede e supponiamo di affogare in qualche modo la scimmia dentro dentro la nostra casa ok allora supponiamo di dire che questa scimmia scavi quella casa quindi come possiamo usare questa scimmia per scavare semplicemente allora si chiama susanne selezioniamo la casa aggiungiamo il modificatore union come abbiamo visto poco fa quindi allora questa ecco boolean scusate boolean nel boolean gli diciamo che l'oggetto da tagliare è susanne da usare come taglio e usiamo come operazione non intersect ma la difference e applichiamo allora a questo punto nel momento in cui selezioniamo la scimmia susanne e la cancelliamo vedete che la la scimmia ha lasciato un'impronta dentro la nostra casa ovviamente la qualità dell'impronta dipende dallo shading però è interessante che vedete che siamo riusciti a fare una cosa molto sofisticata quindi con tecniche del genere voi potete fare cose molto raffinate e potete ovviamente usando lo shading magari quello smooth e non questo qui flat ottenere e vederlo anche un pochino più liscio oppure aggiungete mettete molti più vertici all'oggetto che tagliate come vedete se gli oggetti che tagliano sono molto regolari come in questo caso non ci sono problemi ma se l'oggetto è abbastanza curvo si cominciano a vedere questi difettini allora facciamo ctrl z quindi cancelliamo la nostra Susanna ah no abbiamo detto ctrl z ok quindi togliamo il modificatore e poi andiamo ancora su Susanna e la cancelliamo ok e torniamo quindi alla nostra casa originaria ora qui prima di andare avanti volevo soltanto farvi notare un po' di cosette intanto avrete notato che si vede abbastanza bene tutte le rientranze questo perché nel video scorso avevo invitato a mettere quindi andiamo selezioniamo la casa medievale abbiamo la possibilità di selezionare l'ambient occlusion se non l'ho selezionato vedete che non si vedono benissimo le ombreggiature quindi io suggerisco in questi casi di mettere l'ambient occlusion il problema dell'ambient occlusion è che inserisce anche delle ombre fittizie per esempio alcune normali tipo qua ma a volte anche possono comparire dei difetti mentre si fanno si fanno delle manipolazioni ma comunque in generale credo che sia buona norma averlo impostato quindi fa un po' vedere come verrebbe la luce l'ambient occlusion a meno che non la metti nelle texture comunque è un artificio non fa vedere realmente l'oggetto altra piccola cosa che a volte si usa ma vedete voi se vi interessa o no è il matcap il matcap aggiunge una texturizzazione già sofisticata e quindi permetterebbe togliamo la metta occlusion ok permetterebbe di vedere ancora più chiaramente l'oggetto che state modellando qui ragionate voi se preferite o meno usare questo matcap il matcap vi permette di usare degli effetti complicati nel caso della casa non è che siano particolarmente interessanti questo qui è un effetto metallico diciamo che forse le cose più interessanti sono quelle più semplici non quello evidentemente ma questo che è il default che vi permette di vedere la casa un po' bene tenete conto che usando matcap poi quando fate il rendering se doveste farlo si diventa un pochino più pesante farlo ma insomma degustibus torniamo allora alla nostra casa ancora un piccolo trucco vediamo un po' come operare ecco se per caso vedete che avete commesso dei piccoli errori quando avete tagliato per esempio che può essere che voi vogliate questo scavo un pochino più profondo potete selezionare CTRL SHIFT ALT F e poi modificare quindi per esempio potete scavare di più per ottenere questo effetto oppure potete ad esempio con lo SHIFT selezionate queste due finestre e potete renderle più più profonde e così via se pensate che questa porta sia troppo stretta ad esempio potete selezionare la faccia relativa a questa e poi potete per esempio spostarla quindi ampliarla e modificarne le caratteristiche se pensate che in generale sia per dire troppo bassa insomma potete fare un sacco di cose potete selezionare tutto questo scalino qua sempre con la tecnica dell'edge e poi qua e poi per dire potete farlo più profondo o meno profondo se poi vi crea imbarazzo il fatto di avere che vi manchi il pavimento potete sempre fare una F e chiudere il pavimento e in ogni caso controllate sempre i normali quindi i normali torniamo in edit mode laddove mettiamo tutte le misure vedete abbiamo le misure abbiamo anche la possibilità di vedere le normali e possiamo vedere se per caso abbiamo dei problemi di normalità come vedete in questo caso tutti i capelli escono verso l'esterno e quindi non abbiamo grossi problemi casomai potremmo appunto cancellare il pavimento che abbiamo appena inserito peraltro quindi selezioniamo il pavimento X faccia e vedete se per caso all'interno vedete che comparire dei capelli azzurrini ci sono ma sono corretti nel senso che sono dei pezzi del si dovrebbero essere comunque insomma così dovreste avere un'idea di quello che succede magari lì effettivamente c'è un piccolo difetto vediamo un po' di ridurre i capelli a dimensioni ecco così così vediamo ok quindi queste facce sono buone vedete che escono i capelli verso l'esterno se la vediamo come stavo vedendo prima dall'esterno cioè dall'interno volevo dire vedete vedete che non si vedono più i capelli perché i capelli che si vedevano erano in realtà quelli che si prolungavano perché erano troppo lunghi quindi così abbiamo abbastanza le idee chiare sul fatto che è tutto in ordine e siamo pronti per il prossimo video